Nocerina, Atletico Roma e Benevento e questo il podio del campionato al termine del girone di andata. Sono le squadre più forti, così dicono i risultati di queste prime 17 giornate. In classifica hanno fatto il vuoto alle loro spalle e soprattutto lo ha fatto la Nocerina, vittoriosa anche a Lanciano, che ha concluso la prima parte del torneo con ben 38 punti, 7 in più della coppia Atletico Roma e Benevento, quest'ultimo in frenata. Solo 3 punti nelle ultime 3 partite. Continuasse di questo passo la squadra di Auteri, 11 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta, fin qui concluderebbe il torneo a quota 76. Tanto per capire, nella scorsa stagione il Portogruaro fu primo nel girone B di prima divisione con 59 punti, il Gallipoli due stagioni fa con 60. Dietro le prime 3 c'è grande equilibrio. Ben 8 squadre sono racchiuse nel fazzoletto di 3 punti, dai 25 della coppia Cosenza-Taranto, che completa la zona promozione, ai 22 della coppia Ternana-Gela. Tutte sono in gioco per un posto nei play-off, ma devono fare attenzione. Due vittorie consecutive bastano per cominciare a sognare due sconfitte di fila per avere incubi. Ne sa qualcosa il Foggia, scivolato dal quarto al nono posto in 180 minuti, quelli di Taranto e col Cosenza. La squadra di Zeeman gira a quota 23, 4 punti in più del Foggia di Porta al termine del girone di andata dello scorso campionato. In verità quest'anno ci si aspettava qualcosa di più, ma c'è tutto il girone di ritorno per rimediare. Guardando la classifica, dal viareggio in giù sembrano tutte destinate a sgomitare sino all'ultimo per evitare i play-out, con poche possibilità di inserimento in discorsi più alti. Nella Lucchese, nel Pisa infatti, sembrano in grado di risollevarsi più di tanto e il Foligno è precipitato clamorosamente in basso, ha rimediato domenica scorsa la quinta sconfitta di fila, dopo aver inizialmente volato alto. Quanto alla Cavese, prossimo avversario del Foggia, sconta il notevole peso della penalizzazione. Fatica dunque a tirarsi fuori dai bassi fondi. E domenica si ricomincia a campi invertiti. Per tutti vi sono 51 punti a disposizione.